Non ha commesso alcun falso. Per l'ex parlamentare di Italia Viva, Giussi Occhio Nero, è arrivata all'assoluzione in tribunale a Palermo. Per lei il PM della DDA, Francesca Dessì, aveva chiesto la condanna un anno e sei mesi. L'ex politica presente in aula era accusata di due capi di imputazione, entrambi per falso. Nel primo era imputata di aver certificato che l'attivista radicale Antonello Nicosia fosse un suo collaboratore, permettendogli in questo modo di poter entrare in carcere e incontrare anche detenuti per mafia. In questo caso, Giussi Occhio Nero è stata assolta perché il fatto non sussiste. Nel secondo aveva invece detto che l'uomo non era un giornalista ed è stata assolta perché il fatto non costituisce reato. In sostanza era accusata di aver fatto passare Nicosia per un suo assistente, consentendogli così di entrare nelle carceri senza permessi e di incontrare diversi capi mafia, riportando dall'esterno i loro messaggi. L'uomo è già stato condannato in abbreviato in appello a 15 anni di reclusione. L'ex deputata di Campomarino è stata assistita dagli avvocati Giovanni di Benedetto e Giovanni Bruno. Sono lieto che, quanto da sempre sostenuto in merito all'assenza di responsabilità, sia stato finalmente cristallizzato in una sentenza, ha commentato di Benedetto. Sono felice di poter continuare a credere che la giustizia prima o poi arrivi. È stato invece il commento di Giuseo Occhio Nero. Giustizia è fatta, ha proseguito. Dedico questa assoluzione ai miei genitori. Sono soddisfatta e felice che il giudice abbia sposato la tesi difensiva dei miei avvocati, che nel corso del processo hanno dimostrato l'insussistenza del falso che mi era stato addebitato. Purtroppo nessuno potrà risarcire il dolore mio e della mia famiglia, causato dalle cattiverie di chi ha voluto vedere, nelle fantasiosi ricostruzioni, azioni infamanti e inesistenti. Oggi ha concluso Occhio Nero. È un giorno di festa e voglio godermelo.